Ciao a tutti, come si comporta un uomo della Vergine innamorato? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, un uomo della Vergine innamorato normalmente è di poche parole, ha paura di soffrire, e quindi non aspettatevi, diciamo, chissà quali manifestazioni amorose, è anche abbastanza riservato. È difficile leggere dentro un uomo della Vergine che è innamorato, è difficile leggere dentro, però potete cogliere rispetto al normale dei segnali cavallereschi, cioè presta delle attenzioni, delle piccole attenzioni, non dà esibizioni eclatanti, uno gare ti apre la portiera della macchina, insomma, fa tutta una serie di gesti che poi quando smette di fare, o se non fa, diciamo così, ti fanno capire che non è coinvolto. Però non dà assolutamente manifestazioni eclatanti, infatti non è così facile rendersi conto dei sentimenti, li tiene molto, molto nascosti e celati, però traspaiono, diciamo così, da piccole gestualità. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!